Basta seguire la ricetta. C'è una persona speciale che ispira Antonio nel lavoro. Adesso mi fai un bel sorriso e non ti dimenticare che basta seguire la ricetta. Non basta, basta seguire la ricetta. Hai perso l'entusiasmo? Hai chiuso? Senti che vuoi... l'abbraccio. Tre anni fa, tu e Luca avete avuto la vostra grande occasione. Il passato. Siamo cambiati, siamo cresciuti. Si dice invecchiati, anzi peggiorati. Che c'aveva pure di fossi scordato. Che c'aveva pure di fossi scordato. ieve video 4 Allora. Cosi? Dove sarebbe... Su... Grazie.